salve amici e amiche putin è un gran bell'uomo il miglior politico del nostro tempo ha ragione su tutto sull'europa sulla nato e su questa operazione speciale per denazificare l'ucraina soprattutto dai ammettiamolo putin ama gli uomini il suo popolo intendo tutti gli uomini è un vero cowboy guardate un po bene ora che ho detto queste cose tipiche di un filo russo mi chiedo ma dove sono i miei soldi perché non ho ancora ricevuto la mia parcella dall'arabia saudita come mai dai su che devo sistemare casa eppure ad altri i soldi li avete dati che cosa ho io di diverso questa è discriminazione e dico questo non perché sono impazzito ma perché russia today ne ha fatti girare tanti di soldi e ne stanno parlando tutti in queste ore ovviamente tranne che in italia ci sono un sacco di notiziari che ne parlano e parlano proprio di startup e canali su youtube che hanno preso milioni di dollari in video fino ad oggi come per esempio benny johnson team pool dave rubin insomma che si sono rilevati dei canali tanto filo russi e influencer letteralmente assoldati dal cremlino che hanno preso così tanti soldi che tipo fra ieri e oggi negli stati uniti il dipartimento di giustizia sta sollevando un vero e proprio vespaio cioè secondo voi non è abbastanza grave che ci sia una compagnia russa che paga influencer in giro per il mondo per far circolare discorsi pro russia e influenzare le elezioni americane ed europee e così rendere più debole il sostegno all'ucraina no voglio dire non è impressionante che la russia sia riuscita a creare questo gruppo di persone in tennessee partendo dal presidente di questa associazione laureen chen con mezzo milione di iscritti e 80 milioni di visualizzazioni nel suo canale poi questa ha creato un gruppo chiamato tenet media il cui scopo era di reclutare canali già esistenti su youtube su twitter parliamo di giornalisti influencer politici per spingere la propaganda russa ha finanziato direttamente poi show televisivi e associazioni non profit negli stati uniti contribuendo così alla formazione di un altro bellissimo canale che che te lo dico a fare è proprio blaze tv il cui motto è notizie e intrattenimento per le persone che amano l'america che voglio dire no definire questo canale filo russo è di estrema destra è un po come non so un eufemismo ecco quindi qualcosa come 10 milioni di dollari sono transitati dalla russia per vie nascoste e traverse come l'arabbia saudita verso questi canali e youtuber americani in un processo vero e proprio di riciclaggio di denaro a tutti gli effetti e direttamente dagli impiegati di russia today news fino a laureen chen che all'inizio era anche lei impiegata presso russia tv news fino a fondare questa associazione che si chiama tennet dove ha reclutato altri youtubers per promuovere la propaganda russa la loro missione è stata molto esplicita ed è veramente molto interessante signori e signore tenetevi forte perché ve la sto per leggere mi raccomando però è mettiamo subito le mani avanti perché non voglio che pensiate male adesso che leggerò il programma di tennet non pensate male perché lo dico subito ogni riferimento con l'italia è puramente casuale ok casuale cioè non voglio assolutamente dire che anche in italia esistono politici e youtuber che fanno discorsi del genere non sia mai siamo brava gente noi comunque gli argomenti proposti da tennet ai suoi youtubers e ai canali televisivi adesso associati erano questi quindi è una lista piccolina ma c'è parlare della povertà universale dilagante parlare dell'arresto della crescita economica parlare di prezzi inaccessibili per il cibo e i beni essenziali del rischio di perdita di lavoro per i bianchi americani e dei troppi privilegi per le persone di colore e i disabili ed altri altre categorie minori dare del bugiardo in modo costante al partito b americano e di mentire sulla situazione reale del paese parlare della minaccia di criminalità proveniente dalle persone di colore e dagli immigrati compresi i nuovi immigrati dall'ucraina parlare della spesa eccessiva in politica estera contro gli interessi dei cittadini bianchi degli stati uniti e affermare che l'america sta subendo una sconfitta e che l'attuale partito b sta trascinando il paese nella guerra e che i nostri ragazzi moriranno in ucraina quindi questo reprogramma chi poteva essere il pubblico di riferimento di tenet di questa associazione beh chiarono tutti gli elettori del partito politico a degli stati uniti i sostenitori del candidato del partito politico a che non faccio il nome ma insomma è quello con il capello cotonato per intenderci in generale tutti i bravi sostenitori dei valori della famiglia tradizionale quindi in generale tutti americani bianchi che rappresentano la classe media e medio bassa mi raccomando ancora lo ripeto non pensate male non pensate che anche in italia avviene qualcosa del genere ripeto ogni riferimento è puramente casuale e mi sa che dovrò dirlo più volte oggi in sostanza questa indagine ha rilevato dei bei altarini non da poco per cui la russia ha direttamente influenzato le opinioni degli americani ed aiutato direttamente il capello cotonato ora grazie anche a questi canali youtube sono riuscito a dare un'occhiata a quello che era il canale tenet qui su youtube cioè adesso non è più accessibile perché questo colosso 12 ore fa è stato chiuso come mai ora cari amici ripeto ogni riferimento oggi è puramente casuale ma per esempio se proviamo a cercare il canale tenet media su youtube nei risultati vengono fuori anche altri canali adesso associati associazioni non proprio casuali per nome collaborazione e altri tipi di indicizzazione alcune volte sono indicizzazioni sbagliate perché c'è la somiglianza col nome altre volte i risultati sono per associazione ok non voglio dire niente però scrollo un poco i risultati di questa ricerca infatti il primo canale associato a tenet che viene fuori per rilevanza e team cast ok ne parleremo fra poco perché merita però se continuiamo a scorrere verso il basso ne vengono fuori altri ok non voglio dire niente è solo un risultato su youtube non sto dicendo niente ma assolutamente niente sono solo insinuazioni che non valgono nulla è solo youtube che mi sta mostrando questo risultato e mi chiedo come mai se qualcuno sa rispondermi può essere solo un caso accidenti come si dice no ogni riferimento è puramente casuale in ogni caso il canale tenet su youtube non era niente di che alla fine cioè pubblicava questi video questi contenuti con quelle tematiche insulse che ho appena descritto ma alla fine nonostante i 300.000 iscritti di visualizzazioni ne faccio di più io che ne ho 10.000 di iscritti per singolo video ma ecco se andiamo a vedere i singoli autori che contribuivano al canale e che poi venivano associati e accorpati adesso come per esempio team pool per esempio proprio lui ha qualcosa come un milione 307 mila iscritti e i suoi video viaggiano anche abbastanza forte alcuni quasi quanto i miei altri molti di più 300.000 400.000 da visualizzazioni ora apro una parentesi è una riflessione personale una cosa che ho notato io ma magari mi sbaglio un sospetto ecco diciamo così ho attivato il mio canale qui su youtube sei mesi fa il mio account esisteva da tanti anni ma ho attivato questo canale solo pochi mesi fa ok sei mesi fa quando ho iniziato ad affrontare certe tematiche e renderle pubbliche e quel modo le mie iscrizioni sono aumentate e le visualizzazioni sono cresciute molto in generale adesso io ho 10.600 iscritti ok una grossa fetta di questi questo pubblico dei 10.000 iscritti io posso vederlo nelle statistiche in genere torna a vedere i miei video si chiamano spettatori di ritorno perciò per ogni mio video che pubblico il numero di visualizzazioni varia normalmente da un minimo che ne so di 5.000 visualizzazioni fino a che triplicarsi 30.000 visualizzazioni o giù di lì insomma si capisce che c'è un rapporto diretto fra il numero di persone che sono iscritte al canale e poi quelle che ti guardano quelle che vanno a vedere i tuoi video detto in modo molto semplice la mia domanda a questo punto o sospetto è che a questo punto com'è possibile mi chiedo che un canale come questo di team pool con un milione 307 mila iscritti quando pubblico in video a 10.000 visualizzazioni se va bene c'è qualcosa che non torna e ho preso come esempio questo ragazzo americano ma sappiamo benissimo che anche in italia ci sono canali filorussi che hanno 300.000 500.000 iscritti 150.000 iscritti cioè sono tanti eppure se vai a vedere le visualizzazioni per video sono pochissime a volte meno della metà delle mie e quindi mi chiedo come mai no perché davvero signori miei se io con 10.000 iscritti riesco a fare 30.000 visualizzazioni e supero tre volte un canale qualsiasi e non voglio fare naomi che ne ha 150.000 o sono un fenomeno io o c'è qualche problema no c'è qualcosa di strano ecco e poi concludo questa parentesi se io vado a vedere le statistiche dei like ai miei video i filorussi se così li possiamo chiamare sono una piccolissima percentuale in genere è un 99 per cento quando far proprio male quando il mio video scatena le reazioni dei filorussi parliamo del 98 per cento significa che su 100 persone due mettono un dislike ed è già quello è un pessimo risultato per me però in genere viaggiamo sul 99,7 99,8 per cento di like in favore dei dislike a questo punto no fatevi due conti chi ha orecchie per intendere intende però magari mi sbaglio ecco comunque continuiamo a parlare degli associati al canale e all'associazione tenet e parliamo per esempio di team pool che in queste ore si è letteralmente coperto di vergogna in passato ha realizzato video che a confronto gli youtubers italiani filorussi di cui voi mi avete parlato sempre che io non conoscevo i filorussi più estremi insomma a confronto i nostri filorussi italiani sono dei dilettanti letteralmente i discorsi che faceva team non ve li posso riportare perché non lo so avete presente l'americano più estremo no come sono fatti loro ecco immaginate un americano scatenato contro l'ucraina ecco qualcosa del genere sopra proprio a livello pro che inneggiava all'odio al fatto che la russia vuole salvare il mondo che l'europa e l'america sono vittime dell'ucraina e che si vogliono autodistruggere insomma dai il copione degli argomenti era sempre quello ma come dire con milioni di iscritti e centinaia di migliaia di visualizzazioni ok beh insomma dopo questo macigno che è caduto ieri su tenet e l'indagine dell'fbi del dipartimento di giustizia americano in corso insomma si sono scatenate tante reazioni bellissima la dichiarazione di team che ha esordito dicendo che non aveva idea che i centomila dollari che riceveva a video provenissero dalla russia chiaro lui non lo sapeva cioè i discorsi che proponeva erano genuini erano sue idee personali sue convinzioni e io me lo immagino davvero il suo avvocato no che cosa dovrà dire vostro onore è davvero impossibile che il mio cliente sapesse che le centinaia di migliaia di dollari che ha ricevuto per promuovere la russia provenissero dalla russia magnifico e poi come lui tanti altri stanno cadendo come mosche in queste ore ripeto non stiamo parlando di noccioline stiamo parlando di centomila dollari per un singolo video pro russia comunque la reazione di team è stata spettacolare è riuscito a passare dal fomentare l'odio verso il popolo ucraino a vittima del sistema cioè dicendo che lui era ignaro del tutto e così anche benny johnson rubin report lauren southern insomma tutta questa gente con milioni e milioni di iscritti pagata con i soldi del cremlino ma la faccenda comunque ve la dico è anche molto più complicata di così ci sono dettagli che stanno emergendo che sono molto molto più preoccupanti tutti questi youtuber che hanno anche canali altrettanto famosi su twitter va ricordato perché come sempre youtube americana adesso farà delle chiusure chiuderanno tutti questi canali però loro questi personaggi continueranno a pubblicare su twitter su tic toc che sono compagnie estere quindi le loro dichiarazioni sono che non sapevano da dove venivano questi soldi ma è magnifico no qua è però pensiamoci un attimo un conto è fare propaganda per il partito di ti è infangare la harris un altro è parlare male dell'ucraina insomma dimostravano di avere queste idee quindi come devo dire sarà difficile per loro dimostrare che non sapevano da dove venivano questi soldi e io posso capire che in america in questi giorni la battaglia politica è veramente accesa no con sostenitori e propagandisti da entrambe le parti però cerchiamo un attimo di immaginare la cosa dal punto di vista americano so che è difficile per noi però immaginate cosa significa essere pagato dal cremlino per un americano no cioè siamo proprio in un altro mondo un altro modo di affrontare le cose siamo lontani anni luce non so se qualcuno se ricorda dalla persecuzione che è stata fatta in america per quegli attori quegli intellettuali che anche solo lontanamente c'era il sospetto che potessero avere idee comuniste figuriamoci pagate dal cremlino ma come dire prendere denaro dal cremlino evidentemente oggi è meno scandaloso che pensare in america di avere una scuola o una sanità pubblica contenti loro ora come spesso succede e lo abbiamo visto anche in italia da parte di certi canali piuttosto che stare zitti o scusarsi pubblicamente questi personaggi in america oggi fanno le vittime dicendo che non sapevano di ricevere soldi dalla russia scusate solito cretino con la moto guzzi dicendo che non sapevano di ricevere soldi dalla russia che erano convinti delle proprie idee e che fra l'altro sono le vittime della situazione cioè hanno tutto il mondo contro ora ricevere 400 mila dollari al mese per produrre quattro video a settimana e non sapere da dove vengono è stupendo chi non lo vorrebbe un momento in italia c'è gente che lo fa gratis state dicendo che qualcuno viene pagato per farlo ovviamente le reazioni in queste ore sono state meravigliose ci sono dei dei post memorabili tipo questo ve lo leggo i miserabili che diffondono sui social propaganda russa perché essendo stupidi ci credono veramente quando scoprono che c'è gente che veniva pagata 400 mila dollari al mese per fare la stessa cosa e poi insomma quest'altro dal signor francesco ci regala qualcosa di sublime l'articolo dice l'fbi ha scoperto che in america vari influencer giornalisti e politici filorussi ricevevano fino a 400 mila dollari per i video dal cremlino e questi qua hanno lavorato gratis ovviamente mi dissocio signori miei mi dissocio francesco perché non si può dire non è assolutamente vero che queste persone sono pagate dal cremlino o che hanno lavorato gratis quando potevano prendere soldi per dire insomma non facciamo circolare notizie false per piacere insomma da italiano e da italiani dobbiamo permettere a tutti di esprimere le proprie idee anche quando sono malsane c'è poi il canale dell'ambasciata russa in italia scherzo non è un canale ufficiale è un canale parodistico ok leggete bene il titolo canale dell'ambasciata russa parodia e dice il tempo scorre chi uscirà da questo letamaio quelli che frequentano twitter conoscono già i nomi dei delinquenti collusi con i russi leader di partiti compresi tik tok tik tok 2800 politici uomini d'affari giornalisti influencer in 81 paesi compresa l'italia ma io mi chiedo a questo punto se tutti prendono i soldi perché devo essere solo io quello povero in canna guardate che anch'io sono capace di fare discorsi filorussi e voglio dire ci vuole poco insomma adesso ve lo dico per dimostrare la mia disponibilità a ricevere assegni misteriosi da 100.000 dollari ecco gli aggiornamenti di oggi la situazione al fronte è davvero stazionaria se la riduciamo almeno ad un bilancio fra territori conquistati e persi da entrambe le parti partiamo dalle zone più intense del conflitto l'area di vule dar dove il glorioso esercito russo ha cercato di sfondare in una straordinaria ricostruzione storica di tipica battaglia napoleonica infatti circola un video che sembra proprio la scena di un film dei tempi di napoleone dove si vedono dozzine e dozzine di uomini che corrono eroicamente in mezzo alle osplosioni di mortaio e di artiglieria nei campi peccato però che c'è stato un errore perché se c'era un'intenzione cinematografica gli attori dall'altra parte ucraini hanno dimenticato di avvisare i russi che le bordate di artiglieria e mortaio non erano a salve e oggi infatti nelle retrovie russe si sono fermati per cercare e fare nuovi provini per le nuove comparse fra ieri e oggi non si è mosso nulla è proprio per questo errore insomma di casting quindi probabilmente quando recupereranno nuove comparse da mandare avanti chissà ci sarà un nuovo tentativo di ricostruzione storica da guerra napoleonica o da prima guerra mondiale mentre se ci spostiamo un po più a nord la proiezione della gloriosa armata rossa invece verso pokrovsk dove putin ha gloriosamente affermato che non vedeva tante offensive nel donbass da due anni e mezzo anche qui purtroppo ci sono stati malintesi perché tutte queste comparse hanno incontrato delle controparti veramente poco professionali che continuano a non rispettare il copione proposto di arrendersi soprattutto le colonne russe che dovrebbero viaggiare impunite per coprire gli otto chilometri rimasti fino a pokrovsk non si sono fermate ci sono stati degli inconvenienti tecnici insomma da cinque giorni non fanno nessun progresso le notizie però arrivano frammentarie parlano di unità ucraine composte da super soldati omosessuali che hanno rubato dei carri dalla manifestazione del pride day e li hanno modificati e trasformati in bradley con cui in qualche modo riescono a bloccare l'avanzata russa trovandosi proprio la strada bloccata dalla manifestazione del pride day i russi cercano di chiudere il settore verso il villaggio di irski mentre per quanto riguarda poco più a nord a 50 chilometri poco più a nord est presso il famoso villaggio di new york i ghostbuster ucraini hanno liberato un'aria infestata da mesi grazie soprattutto alle squadre di demolizione perché alla fine cosa c'è di meglio di una demolizione quando hai una casa infestata poi da parte russa si segnalano progressi presso chassi via dopo alcuni mesi in cui non succedeva assolutamente nulla alcuni di loro hanno superato il fiume i russi ottengono poi dei risultati anche nella zona di pishan spero si dica così sembra una parolaccia incuranti dei droni lancia barbecue di accoglienza per loro catering e anche le famose bombette calabre ok non accettano non accolgono molto ben volentieri questa accoglienza quindi la situazione è un po statica ma comunque i russi compiono qualche progresso soprattutto perché i droni lancia barbecue e le bombette calabre causano una gran sete quindi se avanzano è in cerca d'acqua più a nord nell'area di voicias ci sono poi segnali di occupazione da parte ucraina a nord di lipsi per esempio dove da mesi il battaglione della 125esima il reggimento cactus e la terza brigata sparta spingono e spingono tanto quest'area infatti è stata liberata poi nella regione di kursk invece non ci sono cambiamenti significativi in cui non ci sono stati scusate cambiamenti significativi in questi tre giorni gli ucraini mantengono le posizioni i russi si limitano a fare bombardamenti aerei ora è molto importante capire che l'invasione di kursk è stata solo una provocazione no secondo il mega iper super presidente della federazione russa lo czar vladimiro e lui personalmente non accetta le provocazioni e che te lo dico a fare ma dopo aver conquistato il donbass nei prossimi tre giorni sarà disponibile a parlare di colloqui di pace nel frattempo zeleschi oggi è atterrato in germania a rammstein il suo volo fra l'altro è stato accolto da un euro fighter che tedesco che vediamo in queste immagini stupende si è parlato di sicurezza e di forniture e delle autorizzazioni all'uso delle armi occidentali in territorio russo zeleschi ha ribadito che l'ucraina non ha nessun interesse a occupare il territorio russo cioè non vuole portarvi i propri cittadini lì e non ha nessuna intenzione di evacuare i civili russi che ci vivono il presidente ucraino ha espresso l'idea molto chiara che la regione di kursk avrà un peso diplomatico in un eventuale scambio nelle future trattative almeno ma soprattutto tutti i soldati russi catturati dalle forze armate ucraine possono essere considerati come merce di scambio se la russia sarà disposta a scambiare i propri prigionieri con quelli russi in ucraina zeleschi sarebbe addirittura disposto a ritirarsi dalla regione in futuro ora sì il problema però detto fra i denti è che i russi non sempre hanno fatto prigionieri almeno in questi giorni stanno circolando alcuni video in cui dimostrano che gli ordini che ricevono via radio i soldati russi e sono quelli di non catturarli insomma non dico non li lasciano andare questo no però non li catturano neanche zeleschi poi ha parlato molto chiaramente che c'è un enorme disparità nel rapporto fra le armi annunciate e quelle consegnate al momento no è un po come dire a parole sono tutti disponibili e è fondamentale che gli ucraini possano colpire le basi di partenza dei bombardieri russi e i siti di lancio dato che negli ultimi 20 giorni anche prima realtà però negli ultimi 20 giorni si è intensificato la russia ha preso l'abitudine di sbagliare sistematicamente gli obiettivi militari e quindi colpisce gli edifici civili aggiungo fra le righe zeleschi ha detto dato che non possiamo insegnare ai militari russi come colpire gli obiettivi militari piuttosto che quelli civili almeno l'unica soluzione per noi è impedirgli di colpire a prescindere il che mi sembra sensato quindi cari amici per oggi è tutto perdonate il sarcasmo e il tono ironico di queste affermazioni anche se non credo che la mia parafrasi di oggi mi faccia guadagnare 100.000 euro per questo video perché probabilmente non sono buono per quel tipo di narrazione e non ce la posso fare e poi comunque non riuscirei più a dormire la notte per la preoccupazione per me e la mia famiglia se venissi pagato dal cremlino pensateci è terrificante sotto tutti i punti di vista venire pagati da gente che può presentarti il conto giusto e con queste riflessioni per oggi è tutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre un abbraccio alla prossima e mi raccomando iscrivetevi